C&H Industrial è presente in 190 paesi con 12 brand, 64 planti, 49 R&D centri e più di 69.000 È un leader globale nel settore del capital e del buio e, a través di i vari businessi, c&h ha designato, manufatture e venduto equipaggi e costruzioni, tratti e bus, come veicoli e applicazioni di potenza. A subito al Charter di Milano, c&h ha ritoriato il suo comitamento per adottare i problemi maggiori problemi che la città e l'agricoltura face nel futuro. Inoltre, una società che si definisce come solo un uomo non può più tollerare l'agricoltura, malnutrizione o la città, l'acqua o l'energia. Con questo in mente, continueremo a persevere in nostri esercizi per offrire prodotti e soluzioni per la meccanizzazione agricoltura e la trasportazione dei prodotti. Le soluzioni aumentano l'innovità e l'efficienza, quindi promuovendo una economia circolare per la recuperazione, riciclamento e l'utilizzo dei materiali e dei risultati. C&H Industrial è un partner globale dell'Expo Milano 2015 e si presenta con un numero di incidenti. Per la mobilità più sostenibile, C&H Industrial ha portato 20 veicoli di potenza di metano a Expo. Inoltre i brand Iveco, Iveco Bus e FPT Industrial, viviamo in Europa per i combustibili di potenza di gas e i veicoli commerciali. Il metano è una delle tecnologie di propulsione di propulsione di propulsione. È una reale alternativa sostenibile per i combustibili convenzionali. Nel Expo, siamo anche presenti con il Pavilion di Pavilione di Nuovo, l'unica agricoltura di agricoltura con il proprio pavilion. La nostra brand ha sempre stato comitato a promuovere i prodotti sostenibili e efficienti. i prodotti sostenibili e prodotti sostenibili. Il Pavilion ha mostrato il ruolo di meccanizzazione agricoltura in produzione di prodotti sostenibili e più sostenibili, e ha esplorato la strategia di energia di energia in generale in 2006. La promuovere la promuovere di prodotti sostenibili dei prodotti sostenibili e del sviluppo di agricoltura in generale. La sostenibilità è un concetto clave nel nuovo Pavilione di Nuovo, e in tutto ciò che facciamo nel nostro negozio. E con il signorio della Charta di Milano, vogliamo underline. Grazie a tutti!